bella raga bentornati a un nuovo video raga sto registrando perchè per dirvi una cosa raga non ci fate caso che sto registrando su stumble vabbè comunque raga se mi dovete aiutare dovete scrivere nei commenti qualsiasi cosa dovete scrivere se vi voglio reagire a vostro canale perchè poi farò un video che reagirò ai vostri canali quindi scrivete tutti quanti sotto i commenti e io registro i vostri canali ok raga per questo video è tutto è bella